Entri a cazzo di botti live sono in live due secondi per vedere sempre aspetta 5 minuti e poi la stacco cioè no in realtà ce lo c'è pa 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 neanche la condivite sta live quindi non vediamo che voglia Fedevi sta facendo il cazzetanardius l'ha detto Glius tu mi devi dare ancora un account a 10 euro l'altra volta l'ha chiamato con un motostrom ma dove? è su discord l'ha chiamato con un motostromo 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 21 e a lei v circuits l'ha chiamato con un motostromo l'ha chiamato con un motostromo l'ha chiamato con un motostromo Grazie. 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 Ma perché giochi a Call of Duty con il gioco di merda? Bellissimo Ma perché ti piace Fortnite? Stai laggiando Dì un attimo Ma non è niente Non è niente Ma non è niente Non è niente ti è piaciuto il passo ora per sbloccare la tua skin preferita gattina l'avevo già tardi andrea ha detto pochettano Sirius nooo i soldati i russi e uno è morto ciao pensavo che ho intanto streamlabs in live invece è bananino ciao oh mio dio ma anche se siamo le parti ciao ma il streamlabs non vive ciao ma ho visto un commento e ho detto cazzo questo streamlabs che si è trovato adesso non stanno volendo le mani questo è un'altra cosa di aspettare un po' e poi viene lo so infatti l'ho attivato prima vediamo se entra ma bananino dove sta? ah non mi fa tirarlo questo ha fermo 50 anni ho fatto la belliera questa dovrebbe attivarsi perché comunque io mi sono registrato quindi dovrebbe attivarsi aspettiamo poi devo cambiare titolo cioè devo aspettare aspettiamo che il streamlabs intanto che scuola che scuola o non ci a band on the first time modifica ok ok oh mio ho no 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 oh marina marina modu joking karameh mo 6 Quasi mai ormai Non mi piace più Mi c'è il primo gioco preferito ma non ti piace più Sto morendo sempre Non ci credo Andrea che da in un di Cristo a COD Ma non COD Ma non COD Cal of Duty Fra COD è la stessa cosa COD e Call of Duty c'è la stessa cosa Ma non è COD Andre Andre ANTO COD Warzone è Call of Duty Warzone COD è Call of Duty Warzone E se direte è COD WII Andre non Call of Duty Warzone E se direte è COD WII ANTO 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 sono fatto ma perché questo non mi fa mai un raid se devo mettere nel nome per esempio maxa raidami tu raidami l'altro raidami sennò qua non mi raida nessuno maxa raidami si ma minchia faccio duemila iscritti in due secondi infatti non mi fanno un martex mod 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 si ma non morite tutti voglio bananino ma tu stai intendo a lui laggare tu senti tanto laggare no che si è no 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 il timer quello per vedere il tempo dai ma 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 ci ciede nulla ma ci ciede nulla ma ci città Sì, che bella copertina di giusto ho scritto clic qui madonna Chi ti sei c***o? Sto c***o di Streamlabs, se non si avvia... Non c'è tanto di quei c***o nel c***o. C***o! Non c***o! Non è che che la mamma mia. È complicato... È complicato la spiegare. È complicato la spiegare. Ehi Lus, dove c***o sei andato? Ma perché nessuno entra nella mia live? Io sono un bravo ragazzo che non scamma, che non fa niente e che vuole fare creativa. Ma questa è una sfida. Iiii... Tu stai facendo la... C***o? Guarda, 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 guarda. Chi si sente la g***a? Ma mi sai che deve segnere sto c***o? Guarda, guarda, guarda. Ma non fa così, se la fasi sempre spegne. O no, non lo so. Vediamo. Allora, raga... Siamo, vai. Vediamo che ha vinto. Vediamo che ha vinto. Vediamo che ha vinto. Vediamo che ha vinto. Allora... Chi è al me pello? Vado... Raga, stop, 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 ragazzi. Finito, finito, finito. Stop, stop, stop. Ragazzi... Vai, come? Stop, 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 stop. Ragazzi... Ragazzi, ma Steam Lab sono insettivati. Ho capito, stop! Non ho capito, stop. Non c***o il bisogno degli chiedi fatti. Vieni il minuto, fermi tutti, mi raccomando, vediamo chi ha vinto, vediamo chi ha vinto, io, allora ragazzi sto prendendo eh, meno 3, meno 2, meno 1, via, allora ragazzi il vincitore è Denis Ferrante, ma va ancora va, Denis Ferrante, cazzo è il figlio di Chiara, Ferragni, no quello, quello lo capiamo, leone, cane e pippone, ma è un leone, è un leone, leone, cane e pippone, no, Ui ma c'è una persona in live, se non scrivi eh, se non scrivi, ma non troppo andato al party, no, c'è ma non parlo, Allora, un uomo si è più forte che stanno, miglia, non vuoi morire, devi morire, Giulia, ma è una sorella, no è mia cugina, C'ha due anni, vai andiamo, 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 miglia, tu quanti anni hai, un anno e mezzo? Che c'è dici anni, sei più grandina, non è vero, Giulia, che cazzo ti ha piaciuto? Che gridi, che c'è due anni, ti sento che sono sopra, tu stai sotto la tua casa di merda, di due metri quadrati, Chi è? Se stavo in Albania si sentiva, c'è poi l'altra mia cugina più grande, mo, ma che ho fatto di male? Non so, quindi anche conoscere te, c'è detto tutto, cazzo. Perché io mi sento male? No, perché ti senti male? Perché mi sento male. E io mi sento Mario. Eh, allora, devo finire io, proprio. Ok, ciao, Anza. Tu, bimbo. Stamattina ho fatto 60 viso alle mone, neanche una persona. Ho fatto pure 20 like stamattina, chi te è muerto. No, io ho fatto un coglione. Mi sono stato a scoprire tutto il tempo. No, io ho fatto un coglione. Mi sono stato a scoprire tutto il tempo. 130. 130. God, l'ho ucciso, capo di merda. Fallito, fallito. Sei un fallito. Oh, che cazzo. Ho fatto la prima animazione con un cazzo di... Di Godi. Sono una cazzo di maromotto. Niente. Steppa ha detto che ti taglia a mordo, che comunque dice che sei inattivo. Ah, tu, ma perché mi devi trollare? Cioè, me l'avevi già detto che sta... Aspetta. Però ma non sta facendo più live su YouTube. Mi è passato su Twitch. Io su Twitch non posso venire in live da lui, come glielo devo dire. Vengo qualche volta, ma non posso venire. No, ma perché fa live su Twitch su YouTube? Sì, Steppa si è spostato su Twitch. Anto. Anto. Treti Valle. Vedi che sei tu, Anto. No, uno che si chiama Trinity Valle mi ha detto praticamente che Steppa ha detto che mi toglie i mod perché sono inattivo. Ma... No, aspetta, aspetta. Ma chi è? Chi chi è, cazzo? Però ma dalla tua grammatica sembri un bambino di quattro anni, frate. E nasi? Sai chi sono? Un mio amico. Me l'ha detto pure che stamattina eri un mio amico, frate. E no, comunque non lo so chi sei. Stamattina uno mi ha detto che eri un mio amico. Nardi! Ma sai che popolo mamma stronza, Nardi? Sì, veramente mi stai trollandola stamattina? Nardi! Sei proprio un fallito, cazzo. Sei un fallito di... Aia! Ti odio. Dimmi su di che ci facciamo una partita, Demi. Dai, ti odio, frate. Dimmi il tuo ID, Demi. Devi essere cacca... 30 iscritti, frate, sei un fallito. Beh, sai, è la mia prima live. È la mia prima live, frate. Sono un fallito. Dai, dimmi il tuo ID, però. E poi tu quant' ti schicchiai? Quattro. Dai, dai. Dimmi il tuo ID, Nardi. Dimmi la richiesta, che travo tanto. Eh, ZXFIT, ti chiamavi una roba del genere. Boh, dimmi la tua richiesta. Sì, io stanno scendendo 50 anni, Nardi. E Streamlabs, dove cazzo sta? Non lo so dove. E mo non posso giocare. Eh, frate, dimmi la richiesta, che ti mando lo stesso. Poi tu quando giochi me la accetti. Dammi la tua richiesta. Siamo dal guardo. Dimmi la tua richiesta, Nardi. Non ci posso credere che mi sono fatto trollare da una persona che conosco da un anno. Capità. Perché dici sto... Capità, vuoi fare due di due? Capità. Ma quindi me lo vuoi dire sto cazzo, vedi? Ciao, Anto. Anto, ma sei tu tenito i valli, oppure Nardi? Lo sto capendo. Oh, Anto, ma sei tu tenito i valli. Perché non ti mando... Teniti i valli, teniti i valli. Aspetta, ma come... Aspetta, ma tu come fai a conoscere Step? Ma come... Aspetta, aspetta, teniti i valli. Bisogna spinarvi. Come fai a conoscere Step? Non sai manco chi è. Come fai a conoscere Step? E poi dalla grammatica mi sembrava Anto. Solo metti... La grammatica... Mi sembravi tutta la grammatica. Da se non metti accento certe volte. Sto giocando a R6. 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 Anto. Ah, sta giocando a R6. R6. Eh, sì, lo so, sta giocando a R6. Iant. No, no, non è mica. Ma se sei offline, come fai sapere che sta giocando a Rainbow, Nardi? Ah, ma c'è quei cd, non li avevo neanche visti. Ma c'è che sta giocando con lui? Non è parte con lui? No, no, no. Nardi, se sei live, dimmi il tuo dì che ti mando la richiesta su PlayStation Network. Nardi, dimmi il tuo cazzo di Dì. No, 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 no. No, 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 no. Allora, aspetta. Non è possibile. Sì, no, 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 no. Allora, az, x, x, vinci. clap e deads ma che ca mi vieto la richiesta andiamo se me lo accetto se non me lo accetti vuol dire che non sei tu ma non viene poi dom che che fine ha fatto non sto sentendo più dom no no un nostro amico ma comunque mi sembra anche perché ho più zero da c da solo e si però poi dillo che sono stronzo aspetta c'è venire tom va bene voglio venire a tom che non lo vedo da un casino da due mesi tipo non va bene madonna pure ghost non lo vedo da un botto a quel pillo l'abbiamo conosciuta l'anno scorso su youtube mi sono conosciuta senti la roba di testate ahhh che bella mia scherzo dai condividi con tom teniti balle teniti balle ahhh che bella ahhh che bella è come un'altro da me andrì dai ciao domani mi manda lardi e auguri non ha detto che mi mandavano no ci sei online dom pure che si mi ha messo ancora commento ma mi sono accorto ultimamente ho ricevuto un commento di ragazzi ora tim in che senso che senso con tim tomas mi lo dici il tuo dia benvenuti a tutti ragazzi orca troia saluta la pressione tommy mentre io sono dimmi il tuo dia tom si ora me li ricorda me li ricorda io ora ora l'altro tim se ci sono no no mi stufo e vabbè ma intanto dimmi il tuo id che ti mando la richiesta però ma Iaco che fine ha fatto uia ma siete diventati tutti Antonio che non mettete le H boh comunque Iaco non lo so che fine ha fatto questo fallito sta apprezzando dai Iaco dimmi dimmi si vabbè Iaco Tomas dimmi il cioè di che intanto ti mando la richiesta ma lo faccio venire eh vabbè ciao ciao è bello Iaco ma che c'è ma che c'è ma che c'è ok ma Iaco non lo so mi raccomando ragazzi Dennis devi mettere la password passo passo come te lo manda da io capito cioè con un po' maiuscolo un po' più duro dai fai venire come trovate scritto proprio il vostro id raga ok quindi perfetto raga prima account dato eh prima account al primo vincitore dell'estrazione l'ho dato adesso ragazzi seconda estrazione 150 like seconda estrazione e torniamo un po' a giocare un attimino allora raga qualcuno che vuol raga sto cambiando e faccio giocare un po' o qualcun altro quindi raga qualcuno che vuol allora no vogliamo così cosa è un account fake creati è impossibile che state tornando a tutti i modi pure Iaco ha entrato nella mia live ma mi stanno a prendere per il culo mi devi dire come ti chiami su lista ma 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 aspetta Iaco dimmi il tuo edì Iaco dimmi il tuo edì mi serve da fare mo se non giochi pure tu giuro che mi incazzo dimmi il tuo edì mi ricordo di te ma sei un fake Iaco ce l'aveva l'immagine tu no Tommy anche ce l'aveva sono tutti fake tranne Nardi credo può essere quello di Iaco perché non lo conosci boh no no ma credo che non lo conosci Iaco no non lo conosci Iaco dimmi il tuo edì no 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 se sei quello vero dimmi il tuo edì Iaco dimmi il tuo edì no capito di account ma me lo vuoi dire sto cozo di D no ha fatto account ma me lo vuoi dire sto cozo di D no ha fatto account ma me lo vuoi dire sto cozo di D ma Max dove non fa più live Voglio ma che cazzo sta dicendo Max sta facendo live Tu non stai venendo più live su Sono ancora mod Compa ti ha tolto da quattro mesi Ti ha tolto Tu non stai venendo più live su Sono ancora mod Ti ha tolto quattro mesi fa mod Ti ha tolto quattro mesi fa mod Ti ha tolto quattro mesi fa mod Vabbè Jaco dimmi il tuo ID perché sennò ti banno Se non è che ti banno Aspetta Eh fra Non mi arrivi per un maestro che ce l'ho a dire Dimmi il tuo ID Jaco se sei quello vero Perché sennò ti banno Come tu ti chiami? Io non me lo ricordo come si chiama Ma non mi deve dire lui come si chiama Io pure me lo ricordo Non me ne voglio Non gioco più a Fortnite Eh vabbò Ti vuoi dire sto cazzo di ID? Non mi interessa Il tuo ID di Playstation Network me lo vuoi dire? Poi mi sei rotta la play Eh sì Vabbò Sì Sì Non ti mando la richiesta ma me lo dici sto cazzo di ID? Per vedere se sei quello vero Sì Allora Sono su nascondi dentro il canale Se non mi dici dentro di Ti mando la chi ti mando la tutta Non sto scherzando Poi mi sei rotta la play va bene Cioè uno di serra tra play A uno C'è 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 Vabbò Ma va a cagare Sono un ardi Yeah Madonna Ma pure di Max ti ricordi Me ne ho scordate E R Raro No No Allora Non abbonato ragazzi Non abbonato Non abbonato Trollato Ma va a cagare vai Non abbonato Non abbonato Dai Dai Accettami la richiesta Il mio D è Codemaster By the way Accettami la richiesta Tom Che senso sei Tom 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 Ma 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 c'è ancora Il numero di dati Ma 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 Grazie. 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 Mi metto a chiamare Nardi. E' che chiare, vai, vai. Oi, bananino, ci sei? Ecco. No, 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 no. Mi fa... Anto, l'abbiamo capito. Spombo l'angolo e ti banno con tutti gli account. Fuori quello dove si manda, ti banno. Ma... Galino è scritto, bananè che voglio sposare. Gherino è scritto, bananè che voglio sposarti. 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 Gherino è scritto. Gherino è scritto, bananè che voglio sposarti. Gherino è scritto, bananè che voglio sposarti. Gherino è scritto. Gherino è scritto. Allora... Tu, c'è, io non lo so Anto, tu dici sempre così quando gli metti alle femmine Fagli bene sti troll Anto, sono mani... ma... ma cosa? cazzo insulti la seconda cosa è solo Andrea c'è questa qua, ti sembra la voce di Antonia? minchia stai fumata senti noi abbiamo la stessa voce sono Maria sono Andrea cazzo Anto ha chiuso non sta giocando shit dov'è? dov'è? zio non fare i troll ti banno Anto mi sta trollando Anto ma sei Andre? si sono Andrea se continui a chiamarmi Anto ti banno poi Anto cazzo non fa live cioè si le fa ma le fa di 30 minuti questa qua sta durando un'ora stamattina l'ho fatta durare anche tipo due ore una live un mio amico è Bananina un mio amico sta con me nel party saluta Antonia ci sei Bananina? ok ma perché Anto ma con tutti gli account che ti sei creato non metti mai l'accento alle H ok Nardi che sta di Napoli cazzo ma te è bra poi Maria non ha questo nome su YouTube ma io neanche condivisola live non so come non so come mi chiamo Marco Stafia Staffa ma chi sei? chi sei Marco Staffa? non ti conosco perché ti dovrei mettere mod? se mi dici chi sei il tuo ID ti metto mod ma fino fino a quando non so chi sei non ti metterò mai mod sono Maria ma lo vuoi capire se o no no sto disegnando un'altra persona genia del male ma l'hai detto ma ti dice ancora male il cuore il cuore ah no no mi è passata quella cosa oh scolo di merda comunque mi è passata quella cosa stai tranquillo il ID floreggia ma che cazzo boh eh beh vediamo se esiste chi squali si è la nuova season è la nuova season dio ha buono giacca forte spesso deve fare ancora aggiornamento secondo me sciore giallo e mi chiamo matilde di colore giallo questa qua è femmina tutte femmini sta cazzo di live non è più per i maschi che voglio giocare con i miei amici è una femmina che era il giallo io amo io che è sta comunque belle idee complimenti ce l'hai già non trovato che cazzo di D hai oggi giochi a Roblox non ho mai giocato a Roblox è un gioco che mi ha sempre fatto schifo dimmi il tuo D di Epic Games ma questo qua è tipo Antonio sono Antonio sono in questa chat ma ti può chiamare e mi dice non sono andato a live sono Antonio ti ho sbendato come è successo prima con Nardi con Tome e con Iaco dimmi il tuo D Epic se no aspetta scriviamo fiore e dai il gioco insieme a me ma richiede la posta aia a quel gioco di schifo a quel gioco di schifo deve giocare madonna ma vaffanculo va tu ma Tid e chi cazzo dico perché non mi piace Roblox cosa te lo devo dire me lo devo scaricare c'è pure Elio auguri io non ci gioco non ci gioco al Roblox perché credo che non sia un modo di riuscire non posso sformare il canale scuolo di merda ti piace sì sai modificare sì o no sì sai modificare solo che ho capito i tasti sai come sai modificare ancora con triangolo ci capivo niente lo dico anche in dialetto perché mi sto a far parlare no scherzo invece il dialetto posso giocare sì dimmi il tuo D il tuo D è epic non fare come un'altra persona che mi stava dicendo il D a cazzo che non me ne esistevano quante scuse tu mi dirai modificare con L poi si sente si sente la pad si sente TNP cari poi se non esiste neanche tu giuro che mi fai voglio ma perché mi dice piccolo è scritto piccolo che vuoi piccolo l'ho scritto piccolo tutti ne ho trovato tutti ne ho trovato tutti ne ho trovato 77 messaggi solo cazzate qua dentro hai scritto grande TNP ho scritto grande che stai dicendo fra certo che ti manca la vista l'altro che a me avevo messo il capo se non voglio scritto il male riscrivi allora grande anche spam 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 non ho trovato lo scritto non mi do a imparare le palle mandamela tu sta richiesta stamattina ho tutto tranquillo tutto che trovo le richieste 20 like come ti chiami ma il mio potete sta spammando l'id frate ma questo cosce sta male ti ho messo like eh bravo ma inviavi la richiesta se vuoi però il game è cod max star vada vai quello l'amidi epic menzuniero uè mamma tanto bannolo tanto bannolo sto fallito eh vaffan posso creare ma mamma da pezzi di merda vieni a formi b1 vieni a formi b1 spacco i set fallito 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 sbannalo sbannalo voglio delle calze perice sbannalo sbannalo tanto fallito sbannalo sbannalo tanto fallito sbannalo 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 tanti frate banana non sa che hai detto calino hai detto la mia stessa cosa infatti alcune volte con il respiro mi fa male il cuore ma sei detto la mia stessa cosa non so se stai dicendo cazzate infatti con maxi mi sono preso sei infarti ma che cazzo che sta dicendo grazie comunque comunque grazie per l'iscrizione è fallito no questo qua questo qua che mi ha insultato grazie a tutti grazie a tutti Ehi, ragazzi, bello, eh, che chiamatemi qua ragazzi? Non riesco a scrivere niente più, ma in che senso? Ragazzi, manca uno, eh, qui sì. Ma che è successo? Che è successo a pedra? Io ho scritto a sinistra, vediamo se mi rispondo. No, tu stai amaro. Vediamo se ci sono andati. Oh, no. grazie talo come sta raga vabbè chilo passo raga andando in ordine dovrebbe ricevere la prima il primo abbonato di oggi ciao david un secondo la seconda estrazione di oggi il secondo vincitore 150 like vediamo un attimino allora vedi non mi tocca non mi rispote più allora Andrea Basilicata perché è il secondo quindi vado a scriverle subito allora Andrea Basilicata vabbè Dennis sta giocando non ti faccio sentire mi ha scritto grazie gli ho mandato l'account gli ho mandato mi ha scritto grazie allora sì Andrea Basilicata vabbè te neanche ok come ti chiami hai detto come ti chiami hai detto Andrea Basilicata Matteo punto Basilicata eccolo qua allora Matteo mi chiamo Matteo Basilicata 1.2 allora Matteo terminobasicata Basilicata 1.2 giusto? Matteo punto 1.2 è legata 1.2 ma che c'è la foto tua in un profilo? sì ok è quello vedi poi io ora ti mando un messaggio vedete se ti arriva sì mi è arrivato ok perfetto mi è arrivato mi è arrivato giusto? ok mi è arrivato ok mi è arrivato chi è arrivato chi è arrivato chi è arrivato aspettare già